La, come si dice? Ah, subì rimanare, è molto facile, ok, però in italiano si dice sì, perché teniamo il seggiolino dove tutto è sienta che si può regolare a seconda della salita e discesa, sì che teniamo salita e discesa, salita e discesa, salita e discesa, ok, asicché, ora è molto facile, e si, e la mano con il nostro macchinario Richard, ok, bien, ah, ah, eccoli, bravo, un pochino parlate, eccoli, bravo Johnny, attorno Johnny, è un pochino di patria, non ci siamo, Johnny, Ciclete, uno, dos, treza, viva, ecco, ahi, Johni, bravo Johni, ora vedete l'invoto viena, salida, salida, ahi, di scesa, di scesa, ecco Johni. Guardate l'applauso, guardate l'applauso, guardate l'applauso, Johni, non è proprio, mira Johni, come si sente bene, si sente molto bene, domani con lo sport, ok, chiamo il nuovo 1-1 ora, ok, signores, Johni, non terminé qui, non terminé, perché ovviamente, signore, teniamo la cicletta, step machine, e ora, tu savela dar, do you swim? Si, no, non è problema, non con il macchinario, perché chi è che non savela dar, le podemos insegnare, assicché, vabbiamo a parte con forte posizione della macchina della natazione, swimming machine, in English, swimming machine, swimming machine, ecco, la macchina per ruotare, eh.